Un ragazzino di 13 anni è stato ferito ad un braccio da alcuni colpi sparati da un'arma d'aria compressa. È accaduto ieri sera a San Nicola di Centola. Il malcapitato è stato immediatamente trasferito dagli uomini del 118 all'ospedale San Luca di Vallo. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi. I militari della stazione di Centola hanno immediatamente avviato le indagini. Stando alle prime ricostruzioni, tre ragazzini stavano giocando in via nazionale, sparando piccoli artifici natalizi, quando qualcuno, forse infastidito dal rumore, ha fatto partire un colpo che ha ferito il tredicenne. I pallini sarebbero partiti da una pistola d'aria compressa. Al momento si procede contro ignoti. I carabinieri, che hanno ricostruito la traiettoria del proiettile, hanno perquisito alcune abitazioni, ma dell'arma ancora nessuna traccia. Il colpo potrebbe essere partito dal balcone di un'abitazione o da un altro luogo di via nazionale. I controlli sono proseguiti per l'intera serata, anche sulla scorta delle testimonianze dei residenti. Il ferito, intanto, resta in ospedale per accertamenti di rito. Bisognerà verificare le lesioni provocate dal proiettile e se queste possono aver provocato danni fisici ben più gravi. I militari hanno inviato una prima informativa alla Procura della Repubblica.